Sono 33 gli ultra perquisiti dagli agenti della Digos delle questure di Roma, Napoli e Arezzo. L'operazione è scattata a seguito degli scontri tra tifosi giallorossi e partenopei dello scorso 8 gennaio, quando si erano resi protagonisti di violenze e dati vandalici nell'area di servizio di Badialpino in provincia di Arezzo. Si tratta di 20 persone riconducibili alle tifoserie della Roma, 12 a quelle del Napoli ed un aderente agli ambienti ultra aretini, tutti individuati dagli agenti grazie all'analisi dei filmati delle telecamere dell'area di servizio e di alcuni testimoni che hanno filmato con il proprio cellulare. Con il decreto di perquisizione emesso dalla procura di Arezzo, adesso gli investigatori sono alla ricerca di ulteriori elementi di prova per definire le condotte di responsabilità. Lo scontro tra ultra giallorossi e partenopei era avvenuto mentre entrambe le tifoserie erano in viaggio in quel tratto autostradale. Le tifoserie erano dirette rispettivamente a Milano, dove era in programma il match a Milan-Roma e a Genova per la partita Sampdoria-Napoli. Per diversi minuti le due fazioni si erano fronteggiate non solo nell'area di servizio ma anche nel tratto autostradale decente, interroppendo di fatto il traffico e causando una quota di veicoli fermi lunga circa 9 chilometri. I scontri avevano visto anche il lancio di oggetti, l'accensione di torce e l'esplosione di petardi, causando così un pericolo per i mezzi in transito.